eccoci qua con giacombool e f proprio no vabbè a f com'è che dicono a f in inglese e f già letto siamo qui con la storia di junior gohan sono junior sto usando i miei poteri per parlarti telepaticamente e sono i miei poteri che poi da questa voce qua è sbagliatissima per zil aperto aperto un portale dell'inferno ancora più grande sta assorbendo ogni anima che trova per assorbire la sua energia devo avvisare i guerrieri infernali e organizzare un contro attacco va bene junior ti avviso che anche i guerrieri del paradiso si uniranno alle forze dell'inferno e contro la più grande battaglia nella storia inizio finalmente tornato all'inferno proprio una cosa bella e poi la prima serie di una prima serie di union tipo fa dice non c'è nulla di più sublime dell'inferno mentre sta attaccando goku che è una frase che tempo sembra si stighi al satanismo mi somigli se andamecciano tu tu è un potere incredibile e anche e anche se forse non basterebbe cosa c'è solo un altro super saian un grande super saian goku dovrebbe saperlo quindi tu stai dicendo che possiamo contare su goku anche in questa situazione estrema è incredibile che non abbia ancora aggiunto il suo limite il super saian 5 è un super saian è una razionalizzazione del super saian 3 scimmione e vabbè quindi l'evoluzione finale dello stesso tipo e della trasformazione che è successa con super saian 4 esattamente il suo potenziale è enorme quindi possiamo ancora sperare in realtà il dialogo era tipo un miniscot è però boh qui tutto non lo so che cosa se tipo union ragazzi un abito di una hill o come il cazzo si chiama e fa goku dopo 700 anni sei ancora la speranza dell'universo ma che cosa no vabbè so che in teoria non è così però mi ha fatto un po ridere perché c'erano quei dialoghi la dovevano toglierli se no non riesco a prenderlo sul serio queste cose non ce la faccio fisicamente cosa io non ho fatto niente io devo aiutarli a sconfiggerli a sconfiggerli a sconfiggerli aspettami sarò qua ok ce ne hanno due allora questo qua dove devo andare e questo qua dove posso andare secondariamente adesso iniziamo inizia la battaglia finale zil sta per diventare per diventare invincibile a meno che non lo fermiamo chissà cosa cazzo diceva in realtà tanto salvo che non sa mai che si blocchi è una cosa che voglio evitare perfetto Junior grazie per aver aspettato ma che cazzo è stato nai su sono appena sceso mi chiedo se Junior in dare un brazzo abbia un suo tema principale tipo una roba di Nightwish che cazzo ne so mi immagino adesso i Nightwish che cantano coi cori cosi metal eh la musica di Junior quindi tu sei Freezer non somigli neanche un po' a quanto ti immaginassi si neanche io effettivamente questo c'è qualcosa di diverso riguardo a lui non è come gli altri Namecciani sei Namecciani ma può essere sconfitto allo stesso modo ma può essere sconfitto allo stesso modo vai provaci io ho la fusione con Nail con Nail no con Iper Namecciani come si chiama troppo forte questa mossa come si chiama? ok ok Sink e Wait Night no non ho occupaggiato la cosa con Nemo vaffanculo mi imparare a non avere un buco nel culo ok tutti abbiamo un buco nel culo ma noi c'è la più grande se vuoi sapere come la pioggia voi mi sentite li ste vogliate e non mi dite niente non mi dite niente non mi dite niente ok e che ca... nooo ma questo qua è sfiglia veramente si ma quanta vita ne hai tolto c'è a chiac non osare colpermi no va 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 NO se lo avrebbero sconfitto muori adesso è morto ok sconfitto ok ok considera questa considera questa una vendetta da parte tutti i nameciani vivi che ha ucciso considerare cosa non pensare che questo fosse veramente il meglio che sappia fare io ho ottenuto cosa ma ancora vabbè intanto andiamo devo normal cosa qui bevo e metto più sweet chemi una fusione con di benissimo tu sei molto meglio di quanto mi aspettassi però devo farti una confessione io mi stavo trattenendo con te beh anch'io allora per esempio tipo non so il bambino guarda che io non stavo mica usando tutta la mia foto ah sì neanche io lo stavo usando così erano i bambini porca buttano non c'entra un cazzo brodi bio brodi mi dispiace avverti fatto aspettare ora è tocca al round 2 sei un mostro si abbastanza effettivamente concordo con quello che ho detto io non ti permettere magiche braccia mondate come funziona bene questa tecnica veramente dopo devo vedere assolutamente cosa succede se scelgo freezer perché c'è un casino per trasformazioni che è una roba verificante perché cazzo dai dentro da bojack a broli a a ch non lo so a nappa devo assolutamente guardarci perché è una cosa che diavolo stava pensando di giù non so chi invece sta creando sto personaggio perché sicuramente non sono collegati tra loro cioè tipo non so lo suppongo che non posso diventare così non vuole f poi magari non so io non ho letto non avendolo letto non posso fare altro che giungere a supposizioni oh oh era un bel attacco ma oh si usa tutta la tua energia aspetta c'è un potere massivo enorme che sta giungendo qui da noi Goku a quanto pare bo già letto ci vediamo nella prossima parte con la saga di quella che in trea dovrebbe essere Sen ciao